No no no... Ehi, che male! Ehi, che male! Che f***! I pelotti, no! No! Te lo faccio! Ale spemasco! Giii, hai fatto sesso? Mi imbarazzarti da sesso! Sì! Dio porco, Dio porco, Ale! Nel bateria via video cane che hai fatto il fior e c'è un porco, Dio! Possibile è meglio che attacchi a una galera un rapporto più normale alla strada. Non è una strada più normale, non so. Non sono finito, inulare la strada è il secondo, e in ogni circonsai l'uimspace. Una strada più grande... Grazie a tutti.